Preoccupa l'incremento dei ricoveri in ospedale per il covid-19. A Buggerro, dopo alcuni casi accertati tra gli alunni, la sindaca ha ordinato la chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza sino a sabato 4 dicembre. È emergenza maltempo in molte parti della Sardegna. Sono numerosi comuni, grandi e piccoli, ricoperti dalla neve, gravi disagi in diverse strade. Una panchina rossa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. È stata posizionata a San Giovanni Suergiu, donata dal CONAD. Straordinaria serata teatrale lunedì a Carbonia. Carlo Greco e Giuseppe Pambieri hanno ricevuto applausi a scena aperta per l'interpretazione di Nota Stonata, spettacolo incentrato sulla tragedia dell'Olocausto. Ben ritrovati su Canale 40 in apertura di questa edizione del telegiornale i contagi da covid-19 che restano contenuti ma in Sardegna comunque preoccupa l'incremento dei ricoveri ospedalieri appunto per il covid-19. Vediamo le ultime novità in questo servizio. In Sardegna il numero di nuovi casi positivi al covid-19 resta contenuto. Sono stati 98 nelle ultime 24 ore su 4.684 test eseguiti, il 2,09%, ma preoccupa l'aumento dei ricoveri ospedalieri sia in terapia intensiva sia in area medica. Sono stati due i nuovi ricoveri nei reparti di terapia intensiva dove i pazienti sono ora 16, 5 quelli in area medica dove i pazienti ricoverati sono 67. Sono 2.620 le persone in isolamento domiciliare, 30 in più rispetto a domenica. Si è registrato purtroppo nelle ultime ore il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. Ricordiamo che sabato prossimo, 4 dicembre, sarà operativo il nuovo centro vaccinale di Carbonia in via Puglie, mentre sono sempre operativi i centri di Iglesias e San Giovanni Suergio. Per ricevere il vaccino, sia la terza dose, sia la prima o la seconda, per coloro che non l'hanno ancora ricevuta, occorre la prenotazione. E dopo Fluminimaggiore e Calasetta, attorno all'emergenza covid anche a Bugerro, dove la segnalazione di alcuni casi di positività tra gli alunni ha portato la Sindaca, Laura Capelli, a ordinare la chiusura delle scuole e lo svolgimento delle lezioni con il sistema della didattica a distanza fino a sabato 4 dicembre. Le lezioni in presenza dovrebbero riprendere lunedì 6 dicembre. La Sindaca ha rinnovato l'invito alla prudenza e al rispetto delle misure di contrasto e prevenzione dei contagi. Adesso il maltempo, in particolare nel nuorese e nell'oristanese. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco e servizio. Il maltempo che sta investendo la Sardegna ha costretto ieri i vigili del fuoco ad una serie di interventi nel nuorese e nell'oristanese. La zona maggiormente interessata dalle copiose precipitazioni di neve è stata quella più interna alla provincia di Nuoro, con i comuni di Alizzo, Fonni, Gavoi, Sorgono, Vodda, Tonara, Austis, Deesule e Seui, per citarne soltanto alcuni. Oltre ai raccordi viari più importanti, quali la 131 di ramazione centrale nuorese all'ingresso per Nuoro, la 131 nel tratto dell'altipiano di Campeda, tra Macomer e Bonorva e nella strada provinciale numero 43, che da Macomer conduce alla borgata di San Leonardo a Santo Lussurgiu. Il comandante Antonio Giordano ha coordinato le squadre presenti, che sono state integrate da alcuni rinforzi di unità provenienti dai comandi di Sassari e Oristano, intervenute per dare manforte ai colleghi nuoresi. Gli interventi sono proseguiti per tutta la serata, impegnando tutte le squadre disponibili per la rimozione degli ostacoli al traffico, derivanti dagli alberi che sono abbattuti al suolo, ostruendo la circolazione stradale già fortemente rallentata dalla presenza della neve. La squadra del distaccamento di Mandas ha operato durante la notte per liberare la strada statale 198, che da Sassari porta a Seiui. Anche in questo caso, dovuto alle abbondanti precipitazioni nevose, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata e la squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha ripristinato la viabilità e ha messo in sicurezza il tratto viario. Ancora oggi si segnalano criticità derivanti dall'interruzione dell'alimentazione elettrica di alcuni centri abitati, rimasti isolati anche dalla copertura telefonica. La sala operativa del comando vigili del fuoco di Oristano, dalle 5 alle 20, ha gestito circa 50 interventi di soccorso. Gli interventi in tutta la provincia si sono concentrati soprattutto sulle zone innevate. Gli operatori hanno prestato soccorso agli automobilisti in difficoltà e messo in sicurezza vari alberi pericolanti. A proposito di maltempo, il Centro funzionale decentrato di protezione civile ieri ha emesso un nuovo avviso di allerta valido sino alla mezzanotte di oggi, 30 novembre, per codice giallo, quindi criticità ordinaria per rischio idraulico-idrogeologico sulle aree di allerta iglesiente. Campidano, Montevecchio, Pischinappiù, Flumendosa, Flumineddo e Tirso e Logudoro. Codice giallo, sempre quindi criticità ordinaria per rischio idrogeologico anche sull'area della Gallura. È stato consegnato ufficialmente ieri a Sant'Antioco il cantiere per la realizzazione della nuova piazza che sorgerà sopra la voragine di Piazza De Gasperi nata a causa dello smantellamento di un edificio disposto per motivi di sicurezza nel lontano 1994. Ieri mattina in Piazza De Gasperi si è concretizzata la cosiddetta immissione in possesso dell'area e la contestuale consegna degli spazi alla ditta che nei prossimi giorni, ovviamente meteo permettendo, avvierà i lavori. Presenti il sindaco Ignazio Locci e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Garau, il responsabile municipale, due testimoni, è la ditta che si è giudicata alla gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori da 380 mila euro. Questa mattina a San Giovanni Suergio, presso il parchetto dell'aula consigliare di Via Roma, è stata posizionata la panchina rossa donata dal gruppo Conad dedicata a tutti i le donne vittime di violenza. È seguito un momento di riflessione con il conseguente dibattito in aula consigliare alla presenza del rappresentante territoriale Conad, della vicepresidente della Commissione regionale delle pari opportunità Angela Scarpa, gli operatori del centro antiviolenza e l'associazione FIDAPA che ha condiviso l'iniziativa. Presente anche la dottoressa Gabriella Comi, dirigente del commissariato di polizia di Carbonia. Vediamo quindi le interviste realizzate da Giampaolo Cironis con Angela Scarpa e la sindaca Elvira Usai. Angela Scarpa, San Giovanni Suergio, un giorno importante, ogni occasione per sensibilizzare su questo tema contro la violenza sulle donne che purtroppo non si ferma, sembra sempre in crescita e molto molto importante. Sì certo, mi consente di ringraziare la sindaca Elvira Usai che mi ha dato la possibilità anche oggi di parlare di un tema così importante anche in qualità di vicepresidente della Commissione pari opportunità della regione in Sardegna. Arriva a dire appunto la necessità che tematiche importanti come queste necessitano una governance comune, dunque una collaborazione tra istituzioni a più livelli. È una mobilitazione di questo territorio che sta crescendo mi pare? Sì, una mobilitazione che sta crescendo, che sta nascendo proprio non soltanto attraverso anche dei paternariati con gli enti privati e questo è importantissimo. Quindi una collaborazione che nasce da parte di tutti, sia dal terzo settore ma come dimostra la giornata di oggi anche da una sensibilizzazione per quanto riguarda il privato sociale. Elvira Usai è un giorno importante, la panchina rossa, un segnale importante perché purtroppo questo fenomeno del femminicidio, della violenza contro le donne non solo non si ferma ma sempre in continua crescita. È una giornata importantissima per San Giovanni Suergio e per tutto il territorio. Grazie alla Conad che ci ha donato la panchina come simbolo di contrasto della violenza contro le donne ma soprattutto grazie anche a tutte le persone che a diverso titolo e ruolo intervengono oggi in questa inaugurazione, in questa cerimonia doverosa che appunto apporteranno anche un loro contributo. E quindi grazie alla Vicepresidente della Regione Sardegna per quanto concerne la Commissione Pari Opportunità ma anche al Centro Antiviolenza del nostro territorio siamo in attesa anche del questore di Carbonia. Insomma tutti gli attori che hanno collaborato con noi che hanno decisamente spinto per fare in modo che anche qui a San Giovanni Suergio ci sia un simbolo tangibile ma che in tutto il territorio non si zittisca mai questo grido di dolore nei confronti di tutte le donne che subiscono violenza. Il Consiglio regionale proceda dalla prossima seduta alle nomine del garante per l'infanzia e l'adolescenza e del garante delle persone sottoposte a misure ristrettive della libertà personale. Lo sollecitano i consiglieri regionali del gruppo misto Carla Cucco, Roberto Caredda e Giovanni Antonio Satta che hanno scritto al Presidente dell'Assemblea Sarda Michele Paes segnalando come entrambi gli incarichi siano scoperti. I tre consiglieri chiedono al Presidente Paes che convochi il Consiglio regionale nella prima seduta utile per procedere appunto alle nomine. Bentornati in studio per questa seconda parte del nostro telegiornale. Cambio al vertice del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari con l'insediamento del nuovo comandante l'ingegnere Maria Pannuti, prima donna a dirigere un comando dei Vigili del Fuoco della Regione Sardegna. Nel corso della mattinata il nuovo comandante ha incontrato il personale del comando, i funzionari rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali e il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il nuovo comandante ha auspicato di poter intraprendere con la collaborazione del dirigente vicario, dei funzionari operativi e amministrativi di tutto il personale operativo, amministrativo e tecnico questa nuova esperienza dirigenziale con il fine di poter migliorare le già ottime capacità professionale del comando di Cagliari e garantire un sempre più efficiente servizio ai cittadini. Gli auguri per questo nuovo incarico anche da parte di Canale 40 quindi all'ingegnere Maria Pannuti. Aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dalla bastione di San Remy e questa mattina ha chiamato la centrale operativa del comando provinciale di Cagliari al numero di emergenza 112 per annunciare il suo insano gesto. Il carabiniere operatore di centrale è riuscito a intavolare un discorso per rassicurare e rasserenare il giovane permettendo così alla pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari di localizzarlo nel bastione di San Remy e la pattuglia è intervenuta in un momento di disattenzione del giovane riuscita a metterlo in sicurezza e richiedere sul posto l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Santissima Trinità di Cagliari. Il colloquio con l'operatore del 112 e l'immediato intervento della pattuglia si sono rivelati providenziali per evitare che il giovane portasse alle estreme conseguenze il suo gesto. Rimaniamo sulla pagina della cronaca perché ieri i carabinieri del norm della compagnia di Carbonia hanno arrestato per furto aggravato una cinquantasettenne di Carbonia sorpresa dal personale di vigilanza delle superpan di via Santa Caterina mentre era intenta a rubare alimenti di vario genere per un valore di circa 50 euro. Dopo le formalità di rito la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima. Fermo restando che sono da condannare gesti come un furto, certo un fatto del genere la dice lunga anche sulle condizioni sociali delle persone. Andiamo avanti. Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari un disoccupato 46enne di Carbonia non è stato trovato dai carabinieri della stazione locale all'interno della propria abitazione in cui doveva scontare la misura restrittiva ed è stato denunciato a piede libero per evasione. Rimaniamo sempre nella pagina della cronaca, questa volta ci spostiamo a Selarjus dove un ventenne algerino è stato denunciato a piede libero per rapina dai carabinieri di Monserrato. Ieri i militari sono riusciti tramite l'analisi degli impianti del sistema di videosorveglianza comunale a raccogliere dei dati su questo giovane. Il giovane era stato avvicinato da una persona dell'altezza di circa un metro e ottanta completamente vestita di nero che dopo averlo colpito con un pugno al volto gli aveva asportato una catenina d'oro del valore di 500 euro. Vediamo adesso un servizio sull'incontro che si è svolto a Sassari tra la viceministra del Mise Alessandra Todde e i rappresentanti della rete metropolitana del Nord Sardegna. I rappresentanti della rete metropolitana del Nord Sardegna hanno incontrato la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde per fare il punto sul percorso che porterà al testo definitivo del DPCM Sardegna e sulle principali istanze del territorio. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Comunale di Sassari Maurilio Murru e i componenti del tavolo istituzionale tra le parti sociali per lo sviluppo economico del Nord Sardegna. L'intervento iniziale della viceministra è stato utile per spiegare alle parti presenti le azioni messe in campo finora, le criticità, le interlocuzioni aperte con istituzioni e realtà interessate e soprattutto sottolineare il fatto che gli interessi che devono emergere dal documento devono essere gli interessi di tutti che arricchiscono l'intero territorio. La rappresentante del governo ha ascoltato le istanze dei presenti sottolineando come in questi mesi la Sardegna sia stata coinvolta ed abbia partecipato a tutti i tavoli istituzionali e agli incontri al vertice dai quali sono scaturite le decisioni sino rapprese. A questo proposito Alessandra Todde ha voluto chiarire come i progetti debbano essere portati e presentati dalla regione e che troppi rimpali di responsabilità non fanno bene a nessuno. Il sindaco di Sassari e presidente della rete metropolitana Nanni Campus ha sottolineato come la regione Sardegna faccia scontare a tutta l'isola delle carenze che in questo territorio che non ha neppure un rappresentante nella giunta regionale si sentono ancora di più. L'incontro rappresenta un passo fondamentale di quel percorso iniziato a luglio dalla rete metropolitana con le due riunioni organizzate con le rappresentanze datoriali e sindacali ed i rappresentanti del territorio in regione in Parlamento. È stato un successo a Porto Torres per la 25esima edizione di Monumenti Aperti promossa dalla Imago Mundi Onlus secondo quanto riferito dal comune sono state registrate più di 500 visite nei cinque siti protagonisti di questa edizione. Siamo molto soddisfatti di questo risultato ha dichiarato l'assessore alla cultura Maria Bastiana Cocco che conferma l'interesse verso il patrimonio artistico archeologico e culturale della nostra città. A Cagliari è stata inaugurata la mostra Tempo in processo opere 1965-2021 dell'artista Giovanni Campus. Vediamo il servizio. Sarà visitabile sino al 28 febbraio prossimo la mostra Tempo in processo opere 1965-2021 realizzata dall'artista Giovanni Campus allestita nella Galleria Comunale. Uno degli obiettivi dell'assessorato della cultura del comune di Cagliari guidato dall'assessora Maria Dolores Picciao è far diventare la città un grande museo a cielo aperto utilizzando le aree verdi e i parchi del capoluogo come dei luoghi ideali per collocare le opere. I dettagli della doppia iniziativa dedicata Giovanni Campus sono stati illustrati in una conferenza stampa la quale hanno preso parte oltre all'assessora della cultura Maria Dolores Picciao e all'artista Giovanni Campus anche Marco Meneguzzo che ha curato la mostra ed è Fisio Carbone in rappresentanza del servizio cultura. Questo progetto legato a Giovanni Campus ha commentato l'assessora Maria Dolores Picciao si articola in due eventi uno che riguarda la mostra e l'altro che ha come oggetto l'installazione di una sua opera nei giardini pubblici. Parliamo di un artista molto importante che non a caso ha affrontato uno degli argomenti più delicati come quello del concetto del tempo. Preziosa l'opera che abbiamo collocato davanti alla galleria perché oltre alla sua importanza ci dà l'opportunità di alimentare il concetto di nuova modulazione del contesto urbano e ambientale di Cagliari. Vogliamo arricchire aree verdi e parchi con tante opere in modo da fare della città un museo a cielo aperto. Bentornati in studio per questa terza parte del telegiornale. Il teatro centrale di Carboni ha vissuto lunedì una serata veramente da ricordare con lo spettacolo Nota Stonata inserito nella stagione di prosa organizzata dal CEDAC con il contributo del comune di Carbonia. Protagonisti sono stati due straordinari attori Carlo Greco e Giuseppe Pambieri. Vi proponiamo ora il servizio curato da Giampaolo Cironis ricordandovi che ci sarà al termine del Tg uno speciale proprio dedicato a questo appuntamento teatrale con delle interviste più approfondite. Vediamone insieme una parte. Applausi a scena aperta al teatro centrale di Carbonia lunedì sera per Carlo Greco e Giuseppe Pambieri. Protagonisti di Nota Stonata, testo teatrale dell'attore e drammaturgo francese Didier Caron per la regia di Monio Vadia proposto per la stagione di prosa 2021-2022 organizzata dal CEDAC. Un celebre direttore d'orchestra, artista estremamente esigente, conosciuto e temuto per il suo temperamento sul furio oltre che per la passione ed il talento Carlo Greco incontra nel camerino al termine di un concerto, un sedicente ammiratore Giuseppe Pambieri, il consueto rito dei complimenti degli autografi, si trasforma gradualmente attraverso un dialogo enigmatico e ricco di sottintesi in una situazione molto più inquietante, quasi un appuntamento con il destino. Nota Stonata è una vicenda inventata ma del tutto verosimile che mette a confronto carnefici e vittime in un'impossibile resa dei conti. L'orrore dei lager nazisti riaffiora nella sua mostruosa crudeltà attraverso i ricordi in una sorta di interrogatorio volto ad estorcere una tremenda confessione. L'omicidio compiuto dal figlio diciottenne di un gerarca nazista 47 anni prima sulla scena il direttore d'orchestra Carlo Greco nei confronti del padre di Giuseppe Pambieri, reo di una nota stonata durante un'esecuzione al violino che ha impiegato quasi mezzo secolo per arrivare alla verità e all'identità dell'uccisore del padre. Nota Stonata affronta una delle pagine nere del novecento attraverso lo sguardo di due giovani, testimoni all'epoca ma anche partecipi in prima persona di una insensata strage. La perdita dell'innocenza per entrambi è legata a un episodio lontano nel tempo ma vivido e incancellabile nella memoria che ha segnato irrimediabilmente sia pure in maniera diversa le rispettive esistenze. Tra gli ecchi di un'esecuzione musicale risuonano nella mente i fatali colpi di pistola di mitragliatrice che scandivano le giornate nei campi di concentramento tra lo strazio dei corpi e le vite spezzate. Gli altri particolari della storia ce li hanno raccontati i due attori protagonisti, Carlo Greco e Giuseppe Pambieri, che abbiamo intervistato ieri mattina all'hotel Aquarius a Carbonia a distanza di 12 ore dallo spettacolo. La lunga intervista andrà in onda in uno speciale al termine del telegiornale. C'è anche una rappresentanza sarda nel consiglio direttivo del gruppo giornalisti uffici stampa nazionale. Si tratta di Sergio Nuvoli, presidente GUS Sardegna, responsabile della comunicazione istituzionale dell'Università di Cagliari che è stato eletto all'unanimità vicepresidente. Come presidente è stata eletta Assunta Currà, presidente del GUS Lombardia. Sono davvero molto contento di essere stato eletto vicepresidente del gruppo nazionale giornalisti ufficio stampa. Queste le parole di Sergio Nuvoli, che la settimana scorsa è stato rieletto alla guida del GUS Sardegna. La settimana la soddisfazione aumenta, se penso che a fianchero la nostra presidente Assunta Currà, la prima donna nella storia del GUS ad assumere questa carica. Un grazie di cuore ai colleghi e alle colleghe che ci hanno scelto per questo compito. Anche la sezione di Carbonia aderito all'iniziativa Diventa Arbitro. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione voluta dall'Associazione Italiana Arbitri e portata avanti in Sardegna dalle nove sezioni per avvicinare i giovani e i meno giovani all'attività arbitrale con il doppio ruolo arbitro giocatore dai 14 ai 17 anni. Carbonia ha aderito facendo scendere in campo il suo arbitro di punta Luca Cherchi in forza alla Can C, che libero dal suo campionato è tornato a calcare il palcoscenico dei giovanissimi provinciali dirigendo la gara Marco Culurgioni-Santadi. Per Luca Cherchi si tratta anche di un ritorno al passato perché il sintetico di Giba rappresenta il punto di partenza di una carriera che dai campi provinciali l'ha condotto fino a quelli nazionali. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui, il telegiornale è terminato, vi rinnovo quindi l'appuntamento alle prossime edizioni, subito dopo di noi le previsioni meteo e poi Noas in Curso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci. Noas in Curso, il nostro corso gratuito. Grazie ancora per l'attenzione, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per la